Ha sconfitto a denti stretti il virus. La signora figliola Maria di anni 71, cittadina di Castellabate. La signora Maria è stata ricoverata il 3 gennaio 2021 nel reparto di malattie infettive del Covid Hospital di Agropoli. Trasferita il 5 per peggioramento delle condizioni cliniche, in terapia intensiva e in seguito intubata, il giorno 8 è stata estubata e posta in respiro spontaneo. Il 16 è stata spostata in subintensiva e venerdì scorso, 22 gennaio, dopo 20 giorni torna a casa guarita dal virus. Sono stati lunghi giorni di tensione e preoccupazione da parte dei familiari, ma nonostante tutto, la signora Maria ha vinto la sua battaglia. Oggi finalmente io e la mia famiglia abbiamo potuto riabbracciare mia madre, dimessa dall'ospedale di Agropoli per tornare a casa, lo scrive l'assessore del comune di Castellabate, costabile Nicoletti sul suo profilo Facebook. Torna guarita dal Covid, segnata dai brutti momenti trascorsi, ma felice dell'umanità e assistenza ricevuta dai medici e il team ospedaliero. Voglio riportare questa testimonianza proprio per far sapere a tutti che presso l'ospedale di Agropoli ci sono medici, infermieri e personale sanitario che quotidianamente H24 sono al fianco degli ammalati, sottolinea l'assessore Nicoletti. Ringrazio la dottoressa Rosa Lampasona, responsabile del reparto che con lo spirito di abnegazione porta avanti un ruolo importante e complesso insieme a tutti gli altri medici, infermieri e personale sanitario. Maria, come ti senti? Sei contenta? Torni a casa, giusto? Sì, grazie a te, non siete stati medici, non siete stati infermieri, siete stati eroi, ma io l'ho salvato. Sei stata brava pure tu, non ti preoccupare. Come sei stata io? Bravissima. Ma tu non dato secondo me. No, no, sei stata bravissima, eh? Torni a casa. Grazie a tutti i medici, per me e di tutto qua. Mi è stata una staff fortissima. Perché mi hanno aiutato, non mi hanno lasciato mai, 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 mai.